Piano Axel! Piano! Tu ce la fai Axel! Magari vuoi trovare la strada più comoda per lui? Non è mica scemo eh! E' un telefono in boste, se dovessi succedere qualcosa mi tocco! Ma di cosa dovessi succedere amore, vai tranquillo! Non c'è l'amantra! Vai Axel! Porta amore! Vai Axel! Porta! Vai Axel! Prendila! Vai che ce la fai, vai! Si sono io! Prendila! Bravo Axel! Bravissimo Axel! No, non venire qui, non ci tocca! Non venire qui, non ci tocca! Vai lì, vai lì, vai lì! Inoltre! Bravissimo Axel! Bravo Axel! Brr! Grazie a tutti.